Sono Capricosta ragazzi Allora, vi spiego tutto ragazzi Questa è una cosa molto bellissima ed è anche una bella novità Per violare questo computer voi dovete usare il joystick quando è senza fili E quando non avete più la noia del cavo che si collega alla base Usando il joystick senza fili, camminando, giocando per la stanza di casa vostra Voi dovete violare questo computer e dovete usare la scintilla Per raggiungere il cavo successivo voi dovete usare i tasti direzionali Ma non dimenticate che questo computer ha un limite di tempo Meno male che ci sono questi orologi e queste sveglie che ci fanno recuperare il tempo Prima che finisca E abbiamo già sabotato questo computer e abbiamo finito E speriamo che questo video sia stato di gradimento ragazzi Così vi ricorderete per sempre come si doveva fare Vi saluto